Buona mattina, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte e benvenuti in questo nuovo video di 7 days to die in cui non faremo tutorial ma faremo un top 5, in realtà non è un top 5, è un 5 tipi di player o di giocatori che io ho incontrato giocando a 7 days to die e che ho catalogato in qualche maniera in 5 tipologie differenti di giocatori. Partiamo con il numero 1, l'esploratore. Appena spawnato comincia a girare la mappa in modo metodico tipo Alberto Angea nel sito archeologico di Pompei. Se è con un gruppo aggiunge il proprio sleeping bag con gli altri dopodiché parte alla scoperta della mappa visitando ogni angolo della suddetta coprendo un'area di minimo 13,476 km quadri più o meno e lo vedrete riapparire dopo una settimana, no, 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 una settimana di game, una settimana vera con più barba di Messner al grido di altissima, purissima, levissima. Per lui una denominazione semplice, due parole, chiare, Alberto Messner. Secondo player di 7 days to die è il bracciante. Dopo un tragico incidente con il proprio cellulare Oko Facebook raggruppa ogni gioco in cui si possono piantare vegetali come 7 days to die o Minecraft sotto un unico comune denominatore Farmville. Pianta tutto ciò che si può piantare. Patate, caffè, tè, corn, blueberry. Se vede uno zombie strisciare lo confonde con una pianta carnivora e si mette a gattararlo di cattiveria sperando di ricavarne qualcosa di commestibile. Quelle poche volte che se ne esce dall'orto va alla ricerca di materiali per costruirsi un trattore artigianale. Provate pure a dirgli che in 7 non c'è. In un attimo log a Facebook e inoltre a tutta la sua rubrica di amici la richiesta del suddetto macchinario agricolo. Per lui due parole caso disperato. Il parsimonioso. Ebbene il parsimonioso è il terzo player tipo di 7 days to die che abbiamo e se provate a immaginare che immagazzinare cibo, armi, munizioni e materiali fosse materia olimpica questo tipo di player sarebbe l'indiscusso vincitore della categoria. La sua base è un vero e proprio magazzino. Con tutti gli oggetti raccolti o craftati divisi per categoria, dimensione, anno di fabbricazione, scadenza, colore, tipo, bla bla bla. Non spartisce nulla con nessuno. Piuttosto che usare una garza o mangiare una patata bruciacchiata una volta finite le barre di cibo, sete e vita preferisce imitare gli elefanti in Africa e andare a morire in un posto sperduto del mondo spesso suggerito lì dall'esploratore. Ogni cassa o baule all'interno della sua casa ha un codice che non confesserà il proprio gruppo nemmeno sotto tortura e se gli chiederete anche solo un panino ammuffito magari ve lo darà ma ve lo farà pesare quanto avergli chiesto un rene per lui le due parole sono vero TACCAGNO Quarto player tipo e questo è Cazzuto il guerriero Regola numero 1 Lo zombie buono e lo zombie morto Regola numero 2 Se camminando incontri uno zombie che se ne frega altamente di te e ti lascia passare senza problemi beh ricorda la regola numero 1 La base tipo del guerriero è situata in centro città se è libero l'ufficio del car parking meglio ancora passa le sue ore di gioco ad ammazzare tutto ciò che si muove siano zombie, cani, maiali ma predilige gli zombie poliziotti perché quelli danno munizioni e infatti sono gli unici zombie che lutta gira con pistola se ha uno shotgun e coltello da combattimento fa armare e costruire non solo nella sua indole lui vuole solo uccidere e basta tipo Ted Bundy ad un ritrovo di femministe e se scopre la password segreta del parsimonioso gli svuota gli arsenali in 2.4 secondi definendo così il record mondiale le due parole per lui John Rambo l'ultimo personaggio è un personaggio strambissimo divertentissimo simpaticissimo non si vede mai la talpa il giocatore talpa è spaventato da tutto ciò che si muove o fa rumore ad un urlo di zombie si caga sotto ad un rumore di passi si caga sotto al verso di un coniglio si caga sotto a picchiare lui stesso una roccia si caga sotto a guardare un video tutorial di Eilentir si caga sotto per Eilentir insomma una scatola di dissentenli dura un paio d'ore e non un minuto in più la sua base è scavata sotto terra e senza porte chiude direttamente con una zolla così non si vede che c'è predilige il deserto visto che con Yucca Juice e Yucca Fruit può campare tranquillamente dei mesi vederlo fuori dalla sua tana di giorno è raro di notte impossibile quindi se siete nel deserto e sentite rumori strani non preoccupatevi probabilmente una talpa e alcuni cubi sotto di voi e vi sta ascoltando pronto all'ennesimo arresto cardiaco o al prossimo cambio di underwear questa è la lista dei 5 giocatori tipo di 7 days to die che io ho trovato nella mia corriera di video giocatori di 7 days to die se voi avete altri tipi di giocatori scrivetemi nei commenti o meglio ancora se avete dei giocatori magari amici anche su facebook che riconoscete in uno di questi magari condivideteli il video e fateli sapere quale tipo di giocatore per voi è più rappresentativo del loro modo di giocare se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale a mettere mi piace, a mettere dei commenti a iscrivervi anche alla pagina di facebook dove sto cercando di mantenere tutti i video aggiornati non ci sto riuscendo in realtà ma fate finta di nulla e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti